Iscriviti al canale per un divertimento senza fine! Siamo arrivati al campus! Questo pomeriggio ci sarà un gioco al campus. I vincitori riceveranno un premio. È il portale magico del cuore alato! Ritorno a Magic Tears. Ma dove siamo? Io sono già stata qui. Anch'io. Mi sembra familiare, ma era più colorato, vero? È proprio come nel mio incubo. Ecco perché la Gialli mi chiedeva aiuto. Ehi! Questa era la mia casa! Guarda! E la mia era questa qui. Ne abbiamo fatte tante quando eravamo piccole. Possiamo andarcene adesso? Questo posto è noioso. Sì, siamo state qui quando eravamo bambine, però ormai siamo cresciute, quindi andiamocene. Hai ragione. Questo posto non è più come prima e nemmeno noi. È evidente che siamo tutte cambiate. Cerchiamo Connie e le altre e torniamo al campus. Ottima idea! E poi siamo in testa alla gara. O forse adesso siamo scese al secondo posto? Un attimo! Guardate! Dobbiamo seguire le nozzoline di Connie! Andiamo! Connie! 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 Connie, siamo qui! Sei davvero tu! Loro! Nila! Snowy? Ho sentito tanto la tua mancanza! Adesso mi ricordo tutto. Vivevamo a Magic Tears. Non ci vedevamo da tanto tempo. Io vivevo qui vicino, in un bellissimo igloo circondato dalla neve. E poi facevo sempre snowboard, come ora. E io vivevo a tutti i frutti beach. Dovremmo andare lì a berci un cry juice. Ah sì, erano deliziosi. Te lo ricordi, vero? E noi eravamo tutti amiche. Una volta Stella ha baciato Narvi? Sì, me ne ricordo. Non è vero, non se lo ricorda nessuno. Ah, cos'è? Una collana? Per me? E i mammaticati? Non importa, Lulu. È il pensiero che conta. Sinceramente, mi mancava tutto questo. Anche a me. Dai, basta, Rim! Mi hai scambiata per un gelato! Che succede? Perché i colori stanno tornando nel mondo Magic Tears? Non è possibile! Che cosa? Non c'è campo! E ora come faccio senza il mio telefono? Però hai detto che eri sufa delle telefonate e che volevi staccare un po'. Beh, sì, volevo staccare un po', ma così mi sembra troppo. Devo occuparmi di faccende molto importanti. Ora torniamo indietro e andiamo a vincere il nostro premio speciale! Dovremmo vincere noi. Abbiamo una bandierina in più. Solo una bandierina? Non potete batterci! Mi piacerebbe visitare tutti i Frutti Beach, ma penso che sia meglio tornare ora o non riusciremo mai a vincere. No, non possiamo andarcene. Dobbiamo trovare il modo di far tornare i colori. Chi se ne importa di quella gara? Il mondo Magic Tears ha bisogno di noi. Ma non siamo più delle bebè. Allora possiamo risolvere la cosa da adulte. Mettiamola ai voti. Ok, va bene, sì. Chi se ne vuole andare, alzi la mano. Uno, due, cinque. Chi vuole rimanere qui, alzi la mano. Uno, due, quattro. Lala, cosa voti? Non so rispondere. Lala, non vorrei metterti pressione, però dipende tutto da te. Vuoi che restiamo qui? O che torniamo indietro, così vinceremo il premio speciale. Beh, in effetti direi che siamo praticamente adulte. Non voglio che ci mandino via dal campus e se si accorgono che ci siamo allontanate lo faranno. Sei voti contro quattro. Torniamo al campus. Ma io non voglio. Non mi piace il risultato. Ma è giusto così. E poi chissà, magari possiamo provare a tornare più tardi. Ehi, che cos'era quel suono? Reem, dove sono finiti tutti? C'è qualcosa di strano? Non è niente, è soltanto il vento. Forza, torniamo indietro. No, non è il vento. Questa risata è uguale a quella del mio incubo. Cuore alato, fammi raggiungere l'altro lato. Aspettate! No! Non è il campus! Come andiamo via da qui? C'era un cannocchiale, se non sbaglio. Possiamo usare quello per cercare un altro portale. Proviamoci! Non ci stiamo tutte qui dentro. Non ci credo. Il mondo sembra sbiadito. Davvero? Fa vedere, anche tutti i frutti bici. È terribile! Dobbiamo fare qualcosa! No, è meglio tornare indietro subito, prima che succeda anche a noi. E come facciamo a tornare indietro, Genio? Va bene, va bene, calmatevi. Volete toccare la mia pietra che trasforma l'energia negativa in positiva? Ma ci sono altri portali. Prima voglio vedere se c'è qualche parte del mondo che ancora colori. Non spingermi. No, non spingermi. Non sono stata io. Nemmeno io. Ehi, stai muovendo il cannocchiale. Ma no! Ma sì, invece. Quella è la foresta di zucchero filato? Oh, Jenna! No! Presto, la dobbiamo aiutare. Sì, ma come? Ma certo! Voi, Santasis, avete i poteri. Io credo di poter trasformare le cose in gelato. Tieni, Phoebe. Gelato speciale in arrivo. E questo è per Jenna! Wow! E voi da dove sbucate? Quante cose state portando? Oh, ti ringrazio, Snowy. Oh, Faye! Pensavo di aver perso queste pietre. Sono meravigliose. Wow! Un fossile della montagna fantasy! Grazie, Betty. Devono essere deliziose. Chissà come sta la mia cara tutti i frutti beach. Grazie, Lulu. Ne avevo proprio bisogno. Vi ricordate la lacrima magica? Sì, era la cosa migliore del mondo. Per me la lacrima migliore era quella di tutti i frutti beach con le jelly sbirichine. Oh, mi mancano tanto. Erano sempre contente. Anche a me. Ma nella foresta ce n'era una che sembrava preoccupata. Siamo venute qui per lei. Ci hanno sempre fatte stare bene. Questo mondo era... Era speciale. Davvero, era tutto meraviglioso e profumato. Anch'io mi ricordo. Eravamo migliori amiche. Certo che lo eravamo. Oh, Rin, così mi fai il solletico. Non sta andando come avevo previsto. Ma non mi sconfiggerete. È da un po' che non vedo le ragazze. Che combineranno? Continua. Festa al campus. Oh no, il mio oroscopo dice che non sarà più popolare. Sicuramente sto già perdendo follower. Devo fare qualcosa. Andiamole. Di non prendere l'oroscopo troppo sul serio. Buongiorno, futuri talenti. Pronti a partecipare alle vostre lezioni preferite? Niente cellulari e niente feste serali. Non sono consentiti. Ho trovato. Darò una festa esagerata per riacquistare la mia popolarità. Stasera festa? Sì, festa! Tutti al campus mi adoreranno. Ciao, Daisy. Ciao, Daisy. Avete sentito della festa di stasera? Sì, non vedo l'ora di andarci. Ehi, Shaq, vieni anche tu alla festa. Oh, sì, la festa. Non posso. Ho qualcosa di più importante da fare. Oggi voglio chiedere a Daisy di andare a prendere un gelato. Noi tre potremmo andarci insieme e poi magari potresti inventarti una scusa per lasciarci da soli. Beh, io preferirei andare alla festa. Ma... Ciao, Daisy. Ti va di andare a prendere un gelato insieme a me? Daisy, devi venire a cantare alla mia festa stasera. Ma... Scusate, davvero non vedete l'ora di andare a quella festa noiosa? Noiosa? La mia festa? Non devi preoccuparti, Lady. Puoi contare su di me. Andiamo. Dobbiamo dirlo a tutti. E voi due non pensate nemmeno di venire. No! Aspetta un attimo. Io volevo dire che... Oh, io volevo andarci. Una festa? Questa è la mia occasione. Farò in modo che la festa sia un disastro. Le tenebre domineranno! È ora di andare a letto. E ricordate, niente feste non sono consentite. Io adesso mi siedo qui a sorvegliare. Andiamo, Shaq. Forse se chiedi scusa inviteranno anche noi. Che ci fate voi due qui? Non era una festa noiosa? Shaq ti vorrebbe dire una cosa. Shaq? Sì, penso ancora che sia una festa noiosa, però... C'è Daisy e... Noiosa? Sei solo invidioso della mia meravigliosa festa? Volevo soltanto chiederti scusa. Molto bene, allora finché non chiede scusa, lui non è invitato alla festa. Invidioso? Noi faremo la nostra festa. Scommetto che sarà molto meglio della tua. Beh, staremo a vedere. Che cosa voleva, Shaq? Oh, niente. Pronti a divertirvi? Sì! Mi presti la macchina fotografica? Ma certo. Ho anche il mio kit degli scherzi. Daisy, vuoi una foto? I ragazzi stanno facendo una mega festa. Perché non andiamo a dare un'occhiata? Non ci penso proprio. Nessuna festa può essere più divertente di questa. Connie, alza il volume. Diamo inizio alla festa. Sembrano buonissimi, Connie. Non so se mangiare quello al cioccolato o quello alla fragola. Questo qua. Penso che proverò a vivacizzare questa festa. Sorridete! Diteci! Balliamo! Facciamo festa! Cantiamo! Non fermate il divertimento! Dremi, hai visto che cosa hai fatto? Non sono stata io. Sono sicura che quello era uno scherzo di Crystal. Mio? Tranquille, non è successo niente di grave. Ci stavamo divertendo un mondo, ma tu hai mandato tutto all'aria. Ma non sono stata io! No, certo! Per favore, ragazze, state rovinando la festa! Vorresti dire che sono una bugiarda? Forse. Allora io vado all'altra festa. Crystal, no! Mi piace! Sta a vedere. Arriveranno presto. Facciamo le luci da discoteca con la torcia. Che succede? Aggiustalo! Va bene, va bene. È facile. Possiamo andare alla festa adesso? Aspetta, arriva qualcuno. Magari è Daisy. Andiamo! Oh, ecco dove eri finita. Dai, non essere arrabbiata. Sono sicura che Crystal voleva solo ravvivare la festa. Guarda. Sembra che qualcuno abbia messo un dolcetto nella tromba. Quindi non era uno scherzo di Crystal. Ora devo andare a cercarla. Crystal, mi dispiace. Lo so che non sei stata tu. Guarda, qualcuno ha messo un dolcetto nella tromba. Qualcuno chi? Dobbiamo dirlo alle altre. Perché si è fermato tutto? Mi sento debole. Sta succedendo qualcosa. Ah! Ho trovato! Sveglierò mi scollette che espellerà tutte dai campus per colpa della festa. Ehi, tu! Eh? Chiunque tu sia, potrai anche rovinare la nostra festa, ma non rovinerai la nostra amicizia. Non importa quello che accadrà. Noi saremo sempre insieme! Ah! Quella luce! No! Vi assicuro che tornerò! Che cos'era esattamente quella luce? E chi era quella signora? Probabilmente quando abbiamo unito le forze, la potenza della nostra amicizia ha attivato il potere delle collane. Ah! Cosa? Non mi sono addormentata! Non mi sono addormentata! Che state facendo? Noi le abbiamo portato a un cuscino, così può stare seduta più comoda. Ah! D'accordo! Wow! Ma guarda un po'! Sembra che alla fine tu ti stia divertendo. D'accordo, hai ragione. La tua festa è fantastica! Ehi, guarda! La festa è decisamente un successo! Il mio livello di popolarità è al cento per cento! Senti, Shack, ti voglio andare insieme a prenderci un gelato? Ops! Cazzo al ladro! Trovato! Rin! Ti ho cercato dappertutto! Tieni. L'ho preparato durante la lezione di cucina. Tutti gli ingredienti sono biologici. Ti piace, eh? Te ne porterò ancora. No, Rin! Sai che non puoi venire con me. Nessuno deve vederti. Un miscolletto ti caccerà dal campus. Appena potrò, te ne porterò ancora. Ora devo andare. Ci vediamo domani, Rin! Buongiorno, domani è il giorno delle visite. Tutto dovrà essere perfetto. Il cibo che ho preparato per i visitatori è squisito. Ricordate di tenere il cibo al fresco nel frigorifero della caffetteria. E non dimenticate, controllate che il frigorifero sia alla giusta temperatura e che il cibo sia tenuto al fresco per i nostri ospiti. 3, 2, 1... Per essere forte, mangia sano! E per tutto il giorno sarai un oregano! Ciao ragazzi, avete visto delle mele in giro? Sono giorni che non ne trovo. No, e non sono l'unico cibo scomparso. Perché sono spariti anche un bel po' dei miei cupcake. Io invece credo che qualcuno mi stia spiando. Qualcuno con i capelli colorati. Cosa? Sei sicura? Non starai esagerando un po'? Tu come spiegheresti le ombre che vedo dalla finestra? Forse è un tuo fan. Oh, a quanto pare ti piace avere segreti con le tue amiche. Beh, credo che ora mi divertirò un po'. Mi assicurerò che il cavallo venga cacciato e che tu lo segua. I miei cupcake sono spariti! Qualcuno di voi ha visto le mie fragole? E dove sono le mie mele? Qualcuno ci sta derubando! Avanti ragazze, di certo sarà... Dobbiamo catturare il ladro. Bene, è ora di trovare quel ladruncolo. Ci divideremo in tre squadre. La squadra A controllerà i food truck, la B controllerà le stanze, e la squadra C... Sì, eccoci qua! Con noi tre il cibo è al sicuro. Sì! Cercate di non fare danni, va bene? Ragazzi, io... Io devo andare a... Ecco, a posizionare le trappole per il ladro. Rima! Rima! Oh, poverino! Devi nasconderti! Stanno cercando il ladro che si è mangiato tutto, ti scopriranno! Squadra A, con me! Il ladro deve essere nascosto qui da qualche parte! Squadra B, sono certa che il ladro sia nascosto laggiù! Mi dispiace, sarà soltanto per un po'. Userò dei torsoli di mela per creare una pista falsa, in modo tale da depistarli. Poi penserò a un posto migliore in cui nasconderti. Seguitemi, il ladro si trova qui, me lo sento. Oh no, sono già arrivati! Ehi, guardate! Torsoli di mela! Ci siamo, il ladro deve essere qui dentro, andiamo! Lì non mi troveranno! Questo è ciò che credi tu? Ma è così buio qui! Le tracce portano lì, il ladro deve essere dietro quella porta. Aspetta un ottimo, non possiamo entrare, non è permesso! Ma il ladro deve essere lì dentro! Forza, andiamo! Aiutatemi! Oh no, stanno per entrare, devo fare qualcosa! Su, spingete! Dreamy? E ora, che cali l'oscurità! Oh, grande, è andata via la luce! Dreamy, sei tu il ladro! Hai rubato tu le mele! E che mi dici dei miei biscotti? Aspettate, non sono stata io, posso spiegare! Ehi, un momento, se è andata via la luce significa anche che... Il frigorifero non funziona! Oh no, accidenti, così andrà male! Aspettate un attimo, ragazze, e vediamo un po' qual è il problema. Il generatore non è rotto, era solo scollegato! Sì, mistero risolto! Ma come facciamo a sollevare il generatore? Questa è un'ottima domanda, vediamo. Dream! Sei davvero tu! Wow, sei grandissimo! E cosa ci fai qui? È per questo che ho preso le mele, per darle a Rim. Ma non so niente sugli altri furti, siete arrabbiate con me? No, ma perché non ci hai parlato di Rim? Temevo avreste cercato di mandarlo indietro, perciò l'ho nascosto. Dreamy, Rim è fantastico! Non c'è nulla di male se volete restare insieme! Dite sul serio! Certo! Vi adoro! Forza, Rim, solleva il generatore! Sì, divertissimo! Ce l'abbiamo fatta! L'oscurità inghiottirà il campus e voi non la fermerete. Ancora tu! Quel cavallo non rovinerà i miei piani! Rim è un unicorno! Il più forte di tutti! E il più bello di tutti! E ha un grande appetito! Noi lo proteggeremo perché è il nostro amico! Potere dell'amicizia! No! Di certo è stata Shadow a rubare tutte le nostre cose. Ci dispiace, Dreamy. Tranquilla, è tutto ok. Dobbiamo pensare a dove nascondere Rim. Miss Collec non deve sapere chi è nel campus. Il cibo per gli ospiti! Era tutto buonissimo. Il cibo è al sicuro. Nelle nostre pance! Guarda! Ora funziona di nuovo. Credi finiremo nei guai per aver mangiato tutto? No! Attenzione, studenti! Spero sia tutto pronto perché gli ospiti arriveranno fra 15 minuti. No, che guardo! Di nuovo insieme! Svegliati, siamo arrivati al campus! Ho fatto un brutto sogno, sembrava così irreale! Ehi, siamo arrivati! È semplicemente fantastico! Lo sai, Connie? Ho la sensazione che qui vivremo tantissime avventure! Andiamo! Ti chiedo scusa! Non preoccuparti! Hai visto cosa è successo? È una cosa assurda, non si sono neanche salutati! Non capisco, può darsi che... Ciao, Narvi! Ciao, Ella! Ciao! Io me ne vado! Non si ricordano di noi! Forse perché siamo un po' cambiate! Wow! La cappuceria è super cool! E guarda! C'è solo cibo biologico! Ci saranno lezioni di cucina! Non vedo l'ora di aggiungere ricette al mio libro! Ciao, Dreamy! Ciao, Crystal! Non vi ricordate di noi? Giocavamo insieme quando eravamo bambine! Ha detto bambine? Beh, bel modo di cercare di fare amicizia, ma a me non interessano le cose da bambine! Oh, perché non possiamo essere amiche come allora? Dai, non pensare a loro! Noi siamo migliori amiche per sempre! Non rilasso altre interviste, sono al campus di rilassarmi! Per sempre! Scusami, va tutto bene? Io mi chiamo Daisy! Sì, sì, piacere di conoscerti! Sono Shaq! Beh, allora ci vediamo a lezione! Sì, sicuramente! Ci vediamo in classe! Adesso io devo andare! Ciao! Ci vediamo a lezione! Oh, Shaq! Mi sentite? Sì, immagino che mi sentiate! Vi do il benvenuto al mio campus! Cioè, al Talent Campus! Dove metteremo le ali al vostro talento grazie ai nostri corsi esclusivi! e alla mia infinita pazienza! Una cosa importante! Ci sono delle regole fondamentali! Non si corre per andare a lezione e niente cellulari al campus! Ci sono sempre delle regole! E adesso cominciamo con l'assegnazione delle camere! Speriamo di essere insieme! Dai, dai! Dreamy e Phoebe! Nella camera numero due, Ella, Daisy, Stella e Crystal! Ok! Nella camera numero uno, Lady, Lala e Connie! Evviva! È fantastico! Con Lala ci divertiremo un sacco! Io scelgo il letto per prima! No! Prima io! Volete vedere un trucco? Mi piace! È bellissima! È un profumo buonissimo! Carta, forbici, sasso per scegliere il letto? Carta, forbici, sasso! Sì, ho vinto io! Scelgo il letto di sopra! Io so fare un trucco! Finito! Che bello! Hai fatto un ottimo lavoro! Anche il tuo lato è molto carino! Guarda, ecco Lala! Ditemi, è questa la carta cui stavate pensando? No! Vuoi delle noccioline? Aspettate un attimo, forse era questa! Beh, in realtà, scusa, ma non ci hai detto di pensare a una carta! Lala è ancora super divertente! Una cosa importante! Se non volete essere rimandati immediatamente a casa, non dovete mai lasciare il campus! E ora, passiamo alle buone notizie! Questo pomeriggio ci sarà un grande gioco al campus! I vincitori riceveranno un premio speciale! Dobbiamo vincere! Quel premio deve essere nostro! Oh no! Questa volta ci hanno separate! È una cosa terribile! Tranquilla, è solo per questo pomeriggio! E in questo modo possiamo conoscere gli altri e parlarne insieme più tardi! Guardiamo il lato positivo! Oh, va bene! Come ho detto, la prima squadra che arriverà alla fontana con le tre bandierine sarà la vincitrice! Per trovare le bandierine dovete risolvere gli indovinelli! Il primo è questo! Se la musica è nel tuo cuore, per cantare trova il posto migliore! E ora potete iniziare a cercare! Io dico di cercare sul palco! Ottima idea! Andiamo! Secondo me è l'ufficio di Miss Collette! Non ho intenzione nemmeno di fare un concerto! E se fosse la camera di Daisy, lei sa decisamente cantare! No! No e no! Non voglio cantare! Mi voglio solo riposare! D'accordo! Possiamo prima cercare in un posto e poi nell'altro! Va bene, cominciamo dalla camera di Daisy! No, dall'ufficio di Miss Collette! L'ho trovata! Sì! Grande! Brava! Che facce buffe avete? È finta, era uno scherzetto! Non è per niente divertente, Crystal! Dobbiamo vincere quel premio! Ma quanto è noiosa! Ehi, guardate! Sì, ho la bandierina! Ti prego, Crystal, smettila! Oh, bravissima, Crystal! Ne abbiamo già una! Vinceremo di sicuro! Ehi, qui c'è un biglietto! Se il premio vincere vorrai, nel posto dove gli alberi coprono il cielo, andrai... Nella foresta! Andiamo! Deve essere nell'ufficio di Miss Collette! Andiamo! Io voglio vincere il superpremio! Anch'io! Per questo dobbiamo andare nella camera di Daisy! Aspettate! Quella è... Oh, non posso crederci! Ragazzi, è una jelly! Te la sei immaginata! Le jelly non esistono! Scusate, ma di cosa state parlando? Sì che esistono! Non ve lo ricordate? È una lacrima magica! No, non può essere vera! Qualcosa non va! Sembra spaventata! Penso ci stia chiedendo aiuto! È il portale magico del cuore alato! Sì, certo! E io trasformo le cose in gelato come quando ero bambina! Ragazzi, quello è davvero un portale magico! Ma per dove? Beh, copriamolo! Aspettatemi! È fantastico! Guardate! Non sono le noccioline di Connie! Un portale magico! È una cosa... meravigliosa! Dobbiamo riuscire ad attraversarlo! Ma come? Ci sono! Cuore alato! Fammi raggiungere l'altro lato! Che c'è adesso? Ti appunto una zanzara o qualcosa del genere? Non ve lo ricordate? Fa un passo di qua e fa un passo di là! Il portale fantasy di luce brillerà! Secondo te dove ci porterà? Lo vedrete! Vi piacerà un sacco! Continua! Nell'episodio precedente La risata è uguale a quella del mio incubo Anch'io mi ricordo Eravamo migliori amiche Perché i colori stanno tornando nel mondo Magic Tears Best friends forever Mi sto divertendo tanto con voi, ragazze Sì, anch'io Ma forse ora dobbiamo tornare Stiamo avvantaggiando i ragazzi nella sfida I ragazzi, eh? Soprattutto Narvi, vero? No, intendo tutti i ragazzi, Crystal E se viaggiassimo attraverso tutti i mondi Magic Tears Forse scopriremo cosa sta succedendo Io non voglio camminare I miei piedi da diva non possono fare un passo in più Ah, per favore Ma in che mondo vive, Daisy? Ora basta, abbiamo votato Dovete capire che è meglio se torniamo indietro subito Saremo in un guaio enorme Primi, dai un'occhiata in giro Non vedi che c'è qualcosa che non va? È tutto sbiadito A questo punto è evidente che c'è qualche problema in tutti i mondi E prima di tornare indietro lo dobbiamo risolvere Sì, giusto? È vero Per questo non abbiamo votato Di nuovo La stessa risata del mio incubo Di quale incubo stai parlando? Ho fatto un brutto sogno E sentivo una risata come quella dappertutto Forse è meglio non scoprire di cosa si tratta Possiamo andare adesso? Se avessi la sfera di cristallo di mia cugina Tina Potrei capire cosa sta succedendo E come andarcene via da qui Sì, andiamo A casa di Tina Cerchiamo la sfera, forza Andate pure, io vi aspetto qui Oh no, tu vieni insieme a noi Volare è troppo cool Che bello Cominciamo a cercare Guardate, questo è un cioccio di diamante Quando eravamo bambine passavamo giornate intere a cercarmi Sarebbe perfetto come ciondolo Preferivo il farfallino Stava benissimo con il cappello L'ha trovata Prendila, Phoebe Magica sfera di cristallo Mostrami che sta accadendo di male Se serve, posso anche fare una verticale Beh, credo tu debba farla davvero Sì, ha ragione Bene, ora vedo qualcosa Sì, è una mela gigante Una mela? E dove possiamo trovarla? A tutti i frutti Mitch Andiamo? In che direzione? Quella è Nila Andiamo con lei Wow Devo dire che non me la ricordavo così Così Mussolente Deprimente È davvero terribile Guarda, ci sono tantissime jellies Sembrano molto tristi Dai, fammi andare più vicino Forza Ancora un po' Non così tanto Non così tanto Jenna, vai più piano Oh, mi dispiace È una cosa disgustosa Questa probabilmente era una mela È impossibile trovare qualcosa qui Oh no, che cos'è successo? Il lago Lampone è marcito Vi ricordate quando abbiamo dovuto salvare Mel? Abbiamo bevuto quasi tutto il lago Era così buono Non come adesso E quando le jellies si sono intrufolate nella fabbrica? Sì, è stato un disastro Ma ci siamo divertiti a rimettere a posto tutte insieme Tutta questa amicizia mi fa sentire male Vi farò smettere di ridere presto Forse ho fatto un po' la diva Mi dispiace Siamo ancora amiche, vero? Sì, ma prima è meglio che ti accompagni alla spiaggia Così puoi lavarti un po' D'accordo Dobbiamo trovare la mela che abbiamo visto nella sfera di Tina Oh no, non ce la faccio più Io mi arrabbio La mela Ti prego, resisti Dov'è, Gianna? Serve qualcuno che voli Non c'è tempo, presto Dobbiamo formare una catena umana Manca ancora un po' Coraggio, ragazze, tutte insieme Dai, forza Dobbiamo resistere Ci sono quasi Oh no, bravo Al tre Uno, due, tre L'ho preso Grazie per averlo salvato, Jenna Per fortuna stai bene Grazie, ragazze Oh, guardate E i collane E sono tutti uguali Che piace Questa è la mia Tutti Frutti Beach Sono tornati i colori E c'è un buon profumo Tutti frutti Tutti frutti Cosa vuoi dirgli? Mi do Ho capito Adesso possiamo tornare indietro Certo Dovevamo solo essere di nuova amica E collaborare Come quando eravamo piccole Best friends forever Anche se non mi spiego ancora Quella risata malvagia Che importa I colori sono tornati Noi possiamo tornare al campus Sono sicura che mi mancherai tanto Ma dobbiamo crescere Non possiamo restare piccole per sempre A presto, Snowy Forza Dobbiamo tornare indietro E vincere il premio Ma prima di andare Posso fare un ultimo volo Ciao A presto Fammi sapere se succede qualcos'altro Vorrei che potessi venire con me, Rim Sappiate che non è ancora finita Cosa? Ma quella non era... Ah, ma no Ciao, Rim Mi mancherai tanto Trasformerò il campus In un luogo di oscurità e tenebre Rim? Rim? Wow! Sei meraviglioso Ma cosa ti fai qui? Sbrigati, Dreamy Presto, vinceranno i ragazzi Se qualcuno scopre che sei qui Dovrai tornare indietro Presto, devi nasconderti Forza, siete in ritardo Ma non correte Uno, due, tre bandierine Abbiamo i nostri vincitori Il premio speciale va a voi, ragazzi Oh no, c'eravamo quasi Veramente ne avevamo una Non importa Adesso siamo di nuovo amiche Sì, siamo le migliori E poi, come premio di consolazione Ecco un po' di torta Un set di trucchi È questo il premio speciale? Beh, a me piace A me no Quello è il nostro premio Davvero? Allora prenditelo Ok, ora vedrai Mi piace questo posto Ho deciso che distruggerò Questa amicizia Ahahahahha And we always living Truly, truly friends La voranza è il 예뻐 Un po' di torta